La gioia incontenibile della vastese Claudia Scampoli che in coppia con Margherita Bianchin ha vinto ieri a Montesilvano la Coppa Italia. Il tandem si è imposto nella finale della seconda tappa gold del campionato italiano assoluto che appunto assegnava anche il primo trofeo della stagione. Molto combattuta la finale vinta 2-1 in rimonta sul tandem Federica Frasca Alice Grandini con questi parziali 21-17, 18-21, 6-15. Nel tabellone maschile la vittoria finale è andata la coppia Davide Benzi-Carlo Bonifazi impostasi anch'essa per 2-1, 22-20, 16-21, 15-7 su Gianluca Dal Corso e Marco Viscovic. La tappa tricolore di Montesilvano ha fatto registrare un bilancio molto positivo sia in fatto di presenza che per il livello tecnico con alcune gare davvero spettacolari. Archiviata la tappa abruzzese il tour ora andrà avanti fino all'appuntamento conclusivo di Bellaria in calendario tra l'8 e il 10 settembre. Felicissima, è stato difficile, è un torneo a livello fisico, a livello mentale abbastanza impegnativo, tanti partiti di seguito, tanti dive break, compresa la finale ma quindi non c'è soddisfazione più grande che aver conquistato la Coppa Italia. Grazie.